Artrosi. L'artrosi è ad oggi una patologia ancora non ben definibile. È stata classificata in due forme, una primaria ed una secondaria, soprattutto a cause metaboliche, anatomiche o traumi. Epidemiologicamente in Italia colpisce 4 milioni di persone, guadagnandosi a buon diritto il titolo di affezione più comune dell'apparato osteomuscolare. È una patologia, se consideriamo l'età inferiore ai 45 anni, più frequente tra gli uomini, mentre nelle classi di età superiori a 54 anni vengono colpite maggiormente le donne. Quindi sotto i 45 uomini, sopra i 54 le donne. I fattori di rischio sono molteplici. È nozione comune che l'artrosi tende ad aumentare con l'età. Il sesso è un altro fattore di rischio. Nella fattispecie il sesso femminile, gonartrosi e artrosi delle mani sono infatti più frequenti nelle donne. Abbiamo poi fattori meccanici e sovrappeso, fattori genetici e malattie metaboliche endocrine, anche qui rinforzando comunque la nozione della maggiore comunanza nel sesso femminile in età post-menopausale dal momento che gli estrogeni sembrano avere un effetto condrotrofico e quindi condroprotettivo. Ripetendo quindi i fattori di rischio abbiamo età, sesso femminile, fattori meccanici e sovrappeso, fattori genetici e malattie metaboliche endocrine. I microtraumi continuati e i traumi ripetuti costituiscono però forse il fattore di rischio ambientale maggiormente importante, diremo critico. L'anatomia patologica. Allora, le alterazioni artrosiche che si riscontrano sono a carico dei tessuti articolari, quindi cartilagini, membrane sinoviali, osso subcondrale, ma anche a livello delle strutture periarticolari, quindi muscolo-ligamentose circostanti. Per quanto riguarda la cartilagine articolare, nelle fasi avanzate, o meglio, nelle fasi iniziali dal punto di vista già microscopico, saranno evidenti le cosiddette fibrillazioni, che sono quelle discontinuità di superficie che si accompagnano a necrosi e lacune e condrocitarie, che portano a una delaminazione superficiale della cartilagine articolare stessa, quindi fibrillazione con minore capacità di resistenza al peso articolare. A seguire alle fibrillazioni avremo le fissurazioni ed ulcerazioni, cioè piano piano la cartilagine articolare si sfibrilla, si sfilaccia tutta quanta, fino a conché non compaiono delle fissurazioni, ripeto, ulcerazioni che portano alla esposizione dell'osso subcondrale. Nelle regioni più vicine, a livello, in particolar modo, della sinovia, avremo poi sia nelle fasi avanzate erosioni che fenomeni di ossificazione e incondrale, quindi di fatto la cartilagine articolare si ossifica. Dal punto di vista dell'osso subcondrale, noi abbiamo microfratture che determinano di fatto nelle aree di maggior carico una sclerotizzazione dell'osso spongioso. Ricordiamo che l'osso subcondrale è formato anche qui da corticale e osso spongioso. Da ultimo abbiamo la membrana sinoviale che presenta caratteristiche sinovitiche. Dal punto di vista patogenetico possiamo definire l'artrosi come una vera e propria insufficienza articolare che è causata da un eccessivo carico a livello di un'articolazione o fisiologica o comunque un carico fisiologico su una articolazione inadeguata. Quindi di fatto o in un caso è troppo il carico che vai a metterci sopra o è l'articolazione che è inadeguata. Il tutto apporta comunque ad alterazioni dello scambio di segnali fra condrocita e matrice. Nella fattispecie verranno a verificarsi un incremento massiccio della sintesi di proteoglicani, collagene con aumento di queste componenti e aumento della cellularità condrocitaria con formazione di fatto di cluster. Successivamente in una seconda fase di patologia prevale la produzione di citochine cataboliche con di fatto aumento invece dei processi degenerativi, processi degradativi, quindi prevalenza di citochine cataboliche. Dal punto di vista clinico innanzitutto partiamo del dolore. Il dolore che è derivante dall'infiammazione ed è subtolo perché è profondo e insidioso ed è un dolore meccanico che si accompagna a questa rigidità mattutina che dura pochi minuti e si risolve con una mobilizzazione precoce dell'articolazione. Dal punto di vista funzionale abbiamo una limitazione che è reversibile nelle fasi iniziali e diviene stabile poi quando abbiamo deformità articolare, quindi oltre al dolore la limitazione funzionale è importantissima. A seguito di mobilizzazione in queste fasi finali abbiamo, o anche nelle fasi iniziali dove comunque già c'è una minore reversibilità diciamo del quadro limitativo, abbiamo la mobilizzazione dicevo gli scrosci articolari che sono un po' appunto il risultato dello sfregamento tra loro delle superfici articolari insomma. Si ha anche una riduzione dei movimenti flessoestensori, quindi oltre agli scrosci ripeto riduzione escursione flessoestensoria. Il laboratorio e l'imaging, il laboratorio ti dice poco e niente. L'imaging è importante l'RX, RX che ti fa vedere una rima articolare che è molto ridotta, sottigliata e asimmetrica, sclerosi dell'osso subcondrale, osteofiti, sublussazioni nelle fasi avanzate, quindi oltre che le erosioni come sappiamo. Quindi ripeto, RX convenzionale, molto importante specificare, riduzione della rima articolare, sclerosi subcondrale, osteofitosi e sublussazioni. La risonanza magnetica è un altro esame importante, può essere fatta con mezzo di contrasto e immediante questo evidenziare i difetti dell'integrità strutturale della matrice e l'idratazione della cartilagine stessa. Dal punto di vista diagnostico l'artrosi viene di fatto obiettivata, quindi valutata come clinicamente, in base alla presenza del dolore meccanico, la limitazione funzionale di cui sopra, la presenza di tumefazione, ma soprattutto gli scrosci articolari e poi in aggiunta a quanto già detto la riduzione dell'interlinea articolare, gli osteofiti e la sclerosi subcondrale, cioè praticamente tutti i reperti RX che abbiamo detto, ripeto, riduzione dell'interlinea articolare, osteofitosi, la presenza di sclerosi subcondrale e le sublussazioni. Quindi clinicamente invece dolore abbiamo detto meccanico con limitazione funzionale, tumefazione, scrosci articolari, nonché riduzione di flesso estensione. La terapia si basa sulla riduzione del peso corporeo, sulla correzione delle alterazioni metaboliche e vascolari, l'assunzione di posture diurne e notturne corrette e consone alla proprio status articolare e infine l'esercizio, lo svolgimento regolare di attività fisica. Nei pazienti in cui fallisce questo tipo di terapia, se vogliamo, comportamentale, si passa alla somministrazione di FANS, COX2, condroprotettori. Se l'artrosi è avanzata si adota un approccio chirurgico, quindi FANS, COX2, inibitori, condroprotettori, infine approccio chirurgico.